L'apporto del Danunzio-Nuvolari è il rapporto tra due persone eccezionali, ambe due icone del tempo, ambe due legate al mito della velocità. Ma l'incontro è quello del 28 aprile del 32. Nuvolari è al volante di un Alfa Romeo 1750 a guida interna, allora le berline si chiamavano così, e varca il cancello del vittoriale degli italiani, la villa che Gabriele Danunzio ha comprato nel 1921 a Gardone Riviera. Una villa che ha già trasformato fin da allora in un mausoleo-museo, che è visitabile anche oggi. Ebbene, sono da poco passate le nove ad attendere il mantovano volante, vi ricordate, Nuvolari è sovrannominato il mantovano volante, c'è proprio lui, il poeta soldato. E perché? Proprio per questo rapporto che li lega strettissimi, il rapporto con il mito del coraggio e il mito della velocità. Danunzio era nato a Pescarra nel 1863 a quasi 70 anni, ma il fisico asciutto e lo sguardo magnetico sono ancora gli stessi di quando era giovane. Una vita spericolata, come direbbe oggi Vasco Rossi, fatta di amori travolgenti per le donne, per il modernismo, sarà uno dei pilastri con Filippo Tommasi Marinetti del Movimento Futurista. Ma anche il mito del coraggio è un eroe di guerra, Danunzio. Ha conquistato una medaglia d'oro, tre d'argento, è stato protagonista di fatti d'arme incredibili in cielo, mare e terra. Uno slogan che poi riprenderà la Fiat per la sua pubblicità. Il mito della velocità lo affascina, lo ha sempre affascinato, affascinato, di cui la passione per l'automobile. E proprio lui, al momento del lancio da parte della Fiat della 509, ha voluto che l'automobile fosse femmina, con una lettera notissima che ha scritto al presidente della Fiat di allora, che era il senatore Giovanni Agnelli, il nonno di Gianni Agnelli. Ed è proprio per questo che ha voluto ospitare Nugolari, che dopo essere diventato il campionissimo delle due ruote, ha cominciato a correre con le moto, con la Norton, anzi prima con la Indian, poi la Norton, e poi con la mitica Bianchi Freccia Celeste, ha scelto definitivamente l'auto all'inizio degli anni 30 per continuare a vincere in tutto il mondo. Parlano a lungo, di donne, anche Nugolari, è un tombeo de famme come lo era del resto d'annunzio, parlano di auto, di aerei, ne ha uno anche tazio Nugolari. Prima del commiato, reso celebre da una foto che li ritrae, seduti sul predellino dell'Alfa 1750, mentre parlano e si scambiano sguardi pieni di rispetto, di ammirazione reciproca, D'annunzio dona a Nugolari una tartaruga d'oro, un piccolo gioiello che ha fatto realizzare a Milano da un celebre orafo, e l'accompagna con una dedica all'uomo più veloce del mondo, l'animale più lento. Come dire, ami la velocità, ma ami anche le cose belle della vita e vuoi assaporarle, fino in fondo. Ma questo non basta, ed annunzio strappa a Nugolari una promessa, di lì a poco si corre in Sicilia la targa Florio, gli dice, vai a vincere la milla miglia. Tazio sorride e gli risponde, corro per questo e vincerà la gara. Il dono del D'annunzio divene per nuvolare un talismano, un talismano importante, un talismano fondamentale nella sua storia sportiva. Lo porta appeso al collo, con una sottile catena d'oro, e lo fa richiamare sulla tradizionale maglietta gialla che indossa in ogni corsa. Gli porterà fortuna, continuerà a vincere. Fin qui la storia dell'incontro, ma cerchiamo anche di capirne il contesto. Il 1932 è un anno importante per Nugolari. Con l'Alfa Romeo conquista il campionato dei Gran Premi, quella che oggi chiamiamo Formula 1. A volerlo a quel volante è stato Enzo Ferrari, che dal 1930 è titolare della gestione sportiva dell'Alfa Romeo. Ebbene, Nugolari è stato conosciuto da Ferrari pochi anni prima, nel 1924. Ferrari allora era ancora pilota ufficiale Alfa Romeo e correva al circuito del Sabio, un circuito di Ravenna, con un'Alfa RLSS, la stessa macchina con la quale, tra l'altro, sempre nel 1924, vincerà proprio qui a Pescara la Coppa Cerbo. Ebbene, rimane impressionato da questo giovane avversario, che ha delle doti di guida particolari, che lo lasciano perplesso. Lui arriva primo, Fetari ovviamente, ma Nugolari è secondo, con una Chiribiri, una 1500, quindi una piccola macchina, che gli è stata affidata da Deo Chiribiri, che è il costruttore. Perché Nugolari arriva secondo, nonostante una macchina di scarsa appilla, di scarsa verve sportiva, di non eccessiva velocità? Grazie alla sua tecnica di guida, che è fatta di sbandate sulle quattro ruote, che gli permettono, alla uscita di ogni curva, di accelerare prima di tutti. È l'unico, in quel momento, che guida in quel modo. Gli altri si limitano a smandare col retrotreno, è facile, le macchine hanno trazione posteriore, e le gomme sono quelle di allora, le strade sono quelle di allora, quindi è evidente che in ogni curva il retrotreno parta verso l'esterno della curva. Ci si limita a controsterzare, ma questo comporta una riduzione della velocità. Per Nugolari questo non c'è. Sbanda con tutta la macchina e contemporaneamente accelera e riparte velocissimo. La passione per le ruote sta sempre avuta. Il padre e lo zio sono campioni di ciclismo. Ed è proprio lo zio che lo mette per la prima volta in sella a una moto. E ne fa quindi poi un pilota. E il mito del coraggio gli risale a un episodio di quando è ancora un bambino. Ha paura dei cavalli. Il padre tira una moneta d'oro da cinque lire tra le zampe di un cavallo e dice Tazio, valla a prendere. Lui insomma è un po' un po' impaurito ma alla fine le cinque lire d'oro fanno agio sulla paura. Si lancia prende la moneta torna indietro. Ebbene da allora lo dice lo stesso Nugolari non ho più avuto paura. Ho capito cosa significa avere paura. Ho capito come si può vincere la paura. Poi lui ha sempre guidato. Durante la Prima Guerra Mondiale è un autiere per l'esercito italiano. Guida le ambulanze come Ernest Hemingway. L'ambulanza è un Fiat 15T. E c'è un episodio carino, divertente che riguarda proprio l'esperienza militare di Tazio autiere. Nel 1917 la disfatta di Caporetto si scappa, si fugge. Lui guida questo 15T ambulanza accanto a un colonnello dell'esercito piemontese. È notte. I fari sono ancora i fari ad acetilene la luce è quella che è. A una curva il 15T non riesce ad andare dritto sbanda e finisce in una gunetta. A quel punto il colonnello in perfetto dialetto piemontese gli dice torna a Mantua a fare il contadino il volante non fa per te. Beh, credo che questo colonnello si sia rimangiato tante volte la lingua pensando a quello che il Nuvolari ha fatto dopo. Comunque il 1932 è comunque un anno strano al di là dell'esperienza di Nuvolari e della vittoria di Nuvolari nei Gran Premi. Da un lato ci sono ancora gli strascichi di una drammatica crisi economica quella del 1929 il crollo di Wall Street dall'altro però c'è la voglia di crescita di un'Italia che in Benito Mussolini nel fascismo siamo nel pieno degli anni del consenso vede la speranza di un progresso economico sociale che si manifesta con il rafforzamento dell'industria ai grandi progetti come la bonifica delle paludi pontine lo sviluppo di un settore nuovo quello dell'aeronautica il robustito dalle imprese di macchine e piloti italiani in campo automobilistico il 1932 è l'anno in cui la Fiat lancia la Balilla la 508 il nome Balilla gli erudà proprio Mussolini all'atto della presentazione ufficiale è una macchina che costa poco più di 10.000 lire un operaio ne guadagna sia il noccio al mese però supera gli 80 all'ora il motore robusto e affidabile divenuto 1100 nel 1938 ebbene farà della 1100 una delle macchine più longevi della storia dell'auto rimasta in produzione fino alla fine degli anni 60 pensate come la Forti come il Maggiolino o come la Golf oggi quindi questo a grandi linee è il contesto nel quale si inquadra l'incontro tra D'Annunzio e Nuvolari un incontro in cui sicuramente i due grandi parlano anche del mondo in cui vivono di questo mondo in cui vivono della realtà che li circonda capace di cambiare più velocemente di quanto vadano veloci le auto un mondo che entrambi amano in ugual misura sono due spiriti liberi due uomini d'azione due bon vivant che si rispettano si ammirano consci del ruolo che le loro azioni hanno avuto e avranno nel ricordo di ognuno di noi di ognuno di noi